L'Ecole de Paris è una specie di nuova bohème. Pittori e scultori vi affluirono da tutti i paesi del mondo. Essi sostenevano che l'arte è un dono di natura, che la scuola può solo soffocare, come nella Bauhaus. Non si cerca una unità di linguaggio. L'aspetto più significativo è quello di un grande emporio in cui tutte le correnti e le tendenze sono ammesse e si combinano a condizione di essere moderne.